Oggi vi voglio preparare dei dolcetti facili facili e molto molto buoni, sempre con l'aiuto della mia assistente Zaretta. Inizio a montare un uovo con 50 grammi di zucchero e uso una frusta fino a quando il composto non diventa chiaro. Sempre mescolando aggiungo 50 grammi di latte e 70 grammi di burro fuso e continuo a mescolare. Facciamo nel composto 70 grammi di farina, un pizzico di sale e mezza bustina di lievito che equivalgono a circa 8 grammi. E poi giriamo accuratamente per evitare che si formino dei grumi. Ecco qui, otteniamo un composto liscio a cui aggiungeremo una banana e mezza tagliata a pezzettini e infarinata. A me piace usare delle banane biologiche e ben mature, difatti vedete che la buccia è già abbastanza scura. La banana la tagliamo a fettine e poi a pezzettini. Ecco qua i nostri dadini che ho infarinato e li aggiungo all'impasto e giro delicatamente. Abbiamo riempito dei pirottini per muffins circa la metà e in ognuno metteremo una fettina di banana. Metteremo poi su una pirofila e passeremo in forno per 20 minuti a 180 gradi. Dopo 20 minuti i nostri dolcetti sono pronti. Questa ricetta è una ricetta di Benedetta Parodi e avete visto è molto semplice ma vi garantisco il sapore è buonissimo. Sono adatti sia a merenda che a colazione. Grazie mille e a presto. Ciao!